Allora ragazzi, siamo sul set di questo il mio nome è Pote e abbiamo pensato di fare una cosa un po' ironica inizialmente, però poi abbiamo pensato di fare un porno. Come si intitola? E gli guarda, questo pezzo si intitola Mangia il pomodoro. Sarà un pezzo di YouTube falso. Povoro, perché questa è la rivolta dei pomodori. Oh yeah! Ciao! Dori! Cosa da poter dire? Woohoo!